Buongiorno, sono Giuseppe Milo, titolare e direttore commerciale della Gram. Vorrei segnalarvi il piatto che per noi è il più tipico, il piatto per eccellenza, orecchiette cime di rape. Preparazione, fate bollire in abbondante acqua le cime di rape e aggiungete solo a fine cottura le orecchiette fresche, in quanto, essendo pasta fresca, necessita di 3-4 minuti. In un padellino soffriggete delle acciughe salate con della mollica di pane grattata e a termine della cottura mescolate il tutto e servite.